Il gruppo di professionisti, tra i quali l'architetto Luca Carosi, incaricato dall'impresa esecutrice dei lavori, ha già depositato da fine ottobre l'integrazione al progetto esecutivo del nuovo ponte Belvedere, richieste dal soggetto verificatore, che è la società Buro Veritas, azienda incaricata dal Comune dell'Aquila dopo regolare gara per eseguire le verifiche previste dalla legge, come prevede il decreto semplificazioni bis, che permetterà però di accelerare tutte le pratiche. Dopo il progetto definitivo, che è quello che è stato ampiamente presentato, il gruppo di professionisti incaricato dalla ditta ha curato la parte esecutiva per conto dell'impresa, progetto che serve, come si sa, per poter iniziare i lavori. La società sta verificando il progetto e rilascerà anche l'autorizzazione sismica, spiega l'architetto Carosi. Ciò significa che questo sarà l'ultimo passaggio prima dell'inizio dei lavori, perché basterà una delibera di giunta per poter cominciare. Il lavoro però, prima del montaggio del ponte vero e proprio, è molto complesso. Ci saranno da fare la sistemazione del terreno per i pali, la realizzazione dei pali che portano il peso, che saranno 13 di un metro e 20 di diametro. Insomma, lavori impegnativi, anche perché andrà sistemata ancora una parte di demolizione e poi andranno fatte le opere di cemento armato, compreso il muro di contenimento su via Persichetti. Da sei a dieci mesi saranno necessari solo per le opere di cemento armato. Nel frattempo l'imbaro del ponte in acciaio sarà realizzato e stabilimento. Anche le operazioni di aggancio saranno delicate e complesse. Questa, ad oggi, è la situazione del ponte Belvedere, che in città ad ogni modo continua a far discutere, perché solo pochi giorni fa il consigliere comunale Paolo Romano aveva sfoderato una maglietta con scritto Ma il ponte, chiedendosi se appunto fossero state presentate le integrazioni e a che punto fosse la cosa. La realizzazione del nuovo ponte Belvedere è molto attesa, la città lo aspetta da ben 13 anni, opera importante, così è stata definita dall'amministrazione comunale, che cambierà lo scheline della città.